Buonasera, grazie mille per l'invito, perché secondo me questo tipo di incontri, conferanze, sia per la sinistra, anche per il Mediterraneo, per popoli che, come noi, ancora lottando per la nostra libertà e diritti, è abbastanza importante, perché secondo noi, sia in Europa, sia in Medio Oriente, i paesi arabi gestiscono tutti quei paesi sinistri, e vuol dire che per avere diritti per lottare contro il fascismo, anche il militarismo, è di più facile. Però, purtroppo, oggi, sia in Medio Oriente, Medio Terraneo, anche purtroppo, gli ultimi anni in Europa, parlare sulla democrazia, i diritti, è abbastanza difficile. Prima degli anni 90, per esempio, c'era la democrazia occidentale, almeno per i migrati, per tanti altri popoli che lottavano per autodeterminazione. Però, negli ultimi anni, purtroppo, anche paesi occidentali, sempre lontanano da principi fondamentali la democrazia e i diritti umani. Per quello, quando Finlandia e Svezia hanno fatto la richiesta per ingresso in NATO, per esempio, personalmente, io ho un po' rimasto shock, perché cinque anni fa io lavoravo lì, il popolo svedese, anche finlandese, non avevano una idea per chiedere il NATO per entrare. Però, con la guerra di Ucraina, mi sembra una propaganda abbastanza negativa, successo in Europa, e allora questi popoli anche sentivano senza sicurezza. E così, adesso hanno deciso di entrare in NATO, però consacrifico tanti principi, anche i kurdi, purtroppo. Perché, se ricordate, 11 settembre, quando è successo quella cosa in America, anche in quello periodo, subito, hanno preparato una lista terrorismo, eccetera, hanno messo nella lista tutti i movimenti che lottavano per la liberazione, eccetera. Ancora, purtroppo, questa lista vale anche al Comitato Europeo, ha preso tutti questi movimenti nella lista del Comitato Europeo. Per quello, secondo me, la cosa che sinistra può fare in Europa, anche in Medio Terraneo, in Medio Oriente, un po' anche fare qualche scambio tramite partiti, i popoli. Per esempio, abbiamo due o tre cose molto concreti. Il progetto coalizione di HDP in Turchia, per questa cosa un bel esempio. Anche Sirisa in Grecia, è l'ultima elezione che mi lanciò con coalizione. Secondo me, è una cosa, un'esperienza abbastanza forte. Per quello, anche nei prossimi mesi, anni, se quello tipo di incontri continuano, e tramite quelli popoli, tramite quelli partiti anche, secondo me sarà molto bene per ricostruire diversi movimenti e anche andare avanti per gestire il paese. Perché al finale, purtroppo, la democrazia partecipante, che vince, che diventa governo, gestisce il paese. E allora, se è così, anche noi, secondo me, dobbiamo su questa cosa un po' pensare. Per esempio, anni 90, prima volta che abbiamo iniziato a creare partiti politici in Turchia, non avevamo nemmeno un'esperienza. Ok, come la lotta liberazione era abbastanza forte. Però, in prima elezione, per esempio, potevamo avere 18 deputati, 40 municipi, è così. Però, piano piano, abbiamo visto che deve essere, viene base. Dentro società deve creare movimenti. E così si può fare una grande allianza, e sicuramente con la ideologia politica, nuove analisi, se non ci sono nuove analisi, una nuova programma, se non si può capire bene obiettivi di capitalismo, che sono il nuovo mondo, ventunismo secolo, come i popoli, cosa abbiamo bisogno, che sistema abbiamo bisogno. Tutte queste cose, secondo me, se faremo, riusciamo anche ad andare avanti. Però, purtroppo, quando discutiamo questa cosa, non vuol dire che contro di noi anche c'è un blocco che è abbastanza forte e sempre, purtroppo, vogliono eliminare, cancellare di più. Per quello, purtroppo, adesso Medio Terraneo è diventato un deposito di armi, tantissime basi militari, tantissime navi, eccetera. Adesso ogni paese vuole per i suoi interessi muovere, fare nuove allianze. l'ultimo punto, voglio concludere. Purtroppo, questo secolo non c'è di più la politica blocchi. Totalmente una politica molto pragmatica, è tutto per interessi. Per quella cosa, secondo me, abbiamo bisogno di una sinistra molto forte e con una ideologia fortissima. Grazie.